siamo a portici da libridine con analisa baldi che ha da poco terminato di presentare il suo libro dal titolo vedo editrice vocali allora durante la presentazione ho sentito una tua affermazione che mi ha colpito anche perché ho iniziato a leggere il libro e ho percepito quello che tu hai riferito questo libro nasce da un'urgenza quale urgenza allora la solitudine cioè la stare sole è un momento di grande produttività di grande sensibilità e quando io ho potuto stare nel silenzio più assoluto ho iniziato avere delle percezioni superiori a quelle che le mie mani e miei occhi potessero avvertire per cui ho avvertito una sensazione quasi tattile del dover esprimere una storia che aveva radici antiche ma non lo sapevo ancora l'ho saputo mentre iniziavo a scriverlo ritornavo sempre quando ero bambina e quindi mano a mano mi si sono aperti degli scenari seguendo i fili della della mia famiglia fino ad arrivare a dei momenti specifici che sono poi al cuore di questo di questo romanzo e cioè quella quella dote quella quella quel sesto senso quel settimo senso che ti porta a conoscere dei mondi che non sono quelli presenti che non sono tuoi e non è un miracolo è semplicemente un momento di attenzione un momento di 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 avere la possibilità di captare come dei segnali provenienti da altri posti semplicemente perché nel rumore tra la gente tra gli amici tra il tuo quotidiano che non avverti invece li sentivo benissimo tu hai raccontato che tua zia una tua zia aveva questa questa dote che tu nel libro hai attribuito un personaggio possiamo dirlo che si chiama arturo è un personaggio nobile un personaggio nobile che però offre la propria disponibilità il proprio dono a quanti ne facciano richiesta che in che cosa effettivamente consiste questo dono che arturo allora arturo ha un legame con il passato lui ha dei flash che riguardano il passato di altre persone e di altre circostanze queste lui non sa chi sono le persone non conosce i luoghi ma li conserva e sa di doverli utilizzare che perché questo è un destino non compiuto quindi lui è soltanto un messaggero di cosa la storia vuole la storia vuole completarsi quindi spingere su di lui affinché incontrando il destinatario di questo messaggio lui possa concludere la storia la storia si riposa e il personaggio cioè la persona che riceve il messaggio ha una positività qualcosa che lo aiuta a migliorare il suo stato di esistenza e lui l'ha imparato grazie anche all'aiuto di un signore che vive nel suo quartiere che lo portava con sé un pacere originale che appianava liti tra le persone riconoscendogli questo dote questa dote che presa male potrebbe essere poteva diventare anche altro ma diciamo con la con l'eleganza con la cultura di quest'uomo con la delicatezza di quest'uomo ha potuto diventare una ricchezza per lui e per per quelli che lui incrocia sulla strada per questa sua caratteristica sensibilità come dirsi voglia arturo incontra tante persone che raccontano quella che la propria vita la propria esistenza in quel momento la cosa che mi ha colpito e che questa richiesta di tante persone di avere un aiuto fa venire fuori anche un po l'esigenza che tutti quanti noi abbiamo di essere supportati di trovare una mano che ci supporti appunto che ci aiuti quando non abbiamo ben chiare delle cose e era questo l'intento anche l'intento che volevi proporre molto indovinato molto indovinato perché se arturo può vivere e può sopravvivere con questa dote molto particolare può essere accettato dagli altri è proprio per questo per quello di cui hai parlato tu cioè c'è questo desiderio di qualche aiuto ultraterreno che noi sappiamo non essere ultraterreno perché noi abbiamo molte percezioni cieche ma se li avessimo nel pieno regime della nostra attenzione non sarebbero ultraterreno è un modo popolare di esprimersi o di aspettarselo dai santi o comunque noi abbiamo bisogno nella nostra esistenza di un aiuto extra perché quello che abbiamo ognuno vive purtroppo la vita è piena di situazioni difficili da affrontare per cui questa quinta marcia questa forza in più te la dà proprio la diciamo l'arricchimento di una persona come arturo viva dio perché in ogni nostra vita possa possiamo non incontrare personaggi e persone che ci diano questa forza e questa diciamo questo questo vedere una luce oltre alla fine del tunnel che ci permette di attraversarlo questo tunnel quindi alle volte e nei nostri nei nostri familiari alle volte un'amica alle volte abbiamo la sfortuna di non incontrare una persona così è una persona che ha già una percezione migliore di noi perché noi siamo dentro il problema quindi siamo ciechi ciechi delle nostre disperazioni ma chi è libero e ha la mente libera la possibilità di leggerci con maggiore facilità meglio ancora ad avere qualche dote più di maggiore sensibilità perché ci permette di dare una spiegazione al nostro vissuto al nostro imminente futuro un'altra protagonista secondo me del libro è la città di napoli proposta in un modo particolare perché proprio attraverso questi incontri queste narrazioni queste richieste di aiuto si ha la possibilità di vedere di osservare la città in tutte le sue sfaccettature quelle più seriose in quelle più divertenti infatti all'interno del libro ci sono dei dialoghi molto ben strutturati perché per chi scrive organizzare un buon dialogo è una delle cose più difficile la città di napoli si sente che tu hai questa propensione per napoli e anche per ne parlavamo precedentemente per la costiera amalfitana allora io sono una cittadina del sud cento per cento lo sono di radici di dna lo sono di connessioni lo sento e e lo sente chiunque mi mi passi davanti chiunque mi frequenti in a qualsiasi latitudine perché io non mi giustifico non 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 mi nascondo non io questa città la difendo la difendo o meglio come ho detto prima è lei che difende mi perché è molto facile difenderla è talmente ricca di di tutto che non ha bisogno di essere difesa da me è lei che difende mi difende le mie radici me le dà e mi fa girare forte nel mondo perché è una città straordinaria con talenti storici inauditi e con opere inedite in ogni settore sarà sempre un cestino da cui chiunque potrà attingere per trovare quello che desidera come lo come lo desidera ma è il sud che ha una valenza straordinaria perché noi siamo un popolo diciamo travagliato ma siamo un popolo vessato e quindi si ha bisogno di ricordare alle nuove generazioni che noi esistiamo con grandissima forza e che dobbiamo crederci in questo sud per poterlo proteggere si sente nelle pagine che ho letto tutto quello che stai raccontando vorrei toccare un altro aspetto che trovo molto bello secondo me ti appartiene se riuscita a trasporlo nel libro ed è l'ironia nei personaggi e nei dialoghi c'è sempre la battuta ironica che io ho trovato gradevolissima forse molto di più delle battute quelle facili che scattano pure simpaticissime il tuo rapporto con l'ironia nella vita quotidiana sei proprio così io sono proprio così anzi io non potrei vivere una vita piatta senza ironia perché l'ironia dentro c'è tutto c'è l'intelligenza c'è la frutta c'è la verdura c'è c'è il vento c'è il mare l'ironia è l'ossigeno non si può stare senza perché non esiste non c'è nessun argomento che meriti la pena di avere un carico da 90 noi dobbiamo vivere su questa terra con la leggerezza che ci spetta non di più non di meno non essere superficiali non essere soffocati ma dobbiamo vivercela con quell'ardore che ci permettono le sfaccettature di una stessa cosa e noi dobbiamo ballarci intorno a questa cosa perché la cosa non ha una faccia sola non ce l'ha mai e l'ironia serve proprio a questo a fare questa data e per me indispensabile il libro ha momenti forti che uno magari li prende anche un pochino da leggere invece io tocco argomenti molto brucianti che bruciano più del legno vecchio ma se non ci fosse stata l'ironia mi sarei depressa non avrei visto via di uscita e non avrei dato via di uscita invece l'ironia è pure speranza perché nell'allegria c'è la speranza del domani io devo andare a letto col sorriso mi devo svegliare col sorriso perché domani mi aspettano tantissime cose c'è anche un'attenzione all'ambiente tanto distrattato e di cui si parla tantissimo diciamo che c'è tanto in questo libro vorrei concludere con una considerazione e chiederti se è sbagliata oppure ho voluto vedere io anche questo aspetto in questa ricerca del della stampella dell'altro diciamo così si può dire che nel libro c'è anche il tentativo o meglio l'obiettivo forse inconsapevole di spingere il lettore o comunque noi tutti a essere anche più attenti a quello che percepiamo cioè a essere in ascolto di quella coscienza o chiamiamola come vogliamo che può manifestarsi in vario modo perché prima quando parlarvi mi è venuto da pensare proprio a questo siamo disattenti o forse non siamo abituati educati o siamo presi da tante cose o sono andata troppo oltre o c'è anche questo aspetto? C'è tutto quello che hai detto e anche altro allora per quello che riguarda il rispetto dell'ambiente il rispetto dell'ambiente siamo noi cioè non ci sono solo gli alberi gli animali che sono trattatissimi e quindi giusto dargli attenzione totale perché non esiste noi non esistiamo senza la natura cioè un mare sfruttato e non protetto non è mare è acqua un bosco che viene bruciato o viene abbattuto per costruzioni per cemento danneggia prima di tutto noi una città poco rispettata è una città che non ci permette di vivere tranquillamente quindi questo ci danneggia direttamente ma diciamo la sensibilità di cui a cui ti riferivi è una percezione che in parte tu hai dal DNA perché è di famiglia e familiare viene da molto l'anno potrebbe venire da Adamo e Deo perché noi siamo proprio delle discendenze di nostro DNA si segue di padre in figlio da generazioni da migliaia di anni e in parte avviene con l'educazione e quindi vedere emulare l'educazione porta educazione insegnare l'educazione porta educazione parlare di educazione porta educazione e l'educazione così supera il livello superficiale del grazie prego scusi e tornerò e inizia a scendere più in basso allora inizia a diventare una necessità sia di viverlo sia di farlo rispettare più scende nel profondo più queste cose avvengono e più la sensibilità si eleva e più noi siamo disturbati dal danneggiamento di quello che un albero battuto qualunque cosa ci possa danneggiare proprio che ci circonda e dall'altra acquistiamo questo acustica che tu hai detto quindi acquistiamo il grido delle cose che non vanno bene le cose sbagliate le cose violente delle cose che sono fuori posto perché sono certa che ogni essere umano quando si abbatte un albero a un tre cellule che muoiono insieme all'albero sente di suonare qualcosa dentro di sé sono d'accordo con te analisa sei stata gentilissima io consiglio di leggere questo libro per la gradevolezza ma anche perché attiva tante riflessioni e la lettura in fondo non è altro che questo quindi vedo vocali editrice analisa balli grazie infinito e buona serata grazie a tutti